Il difensore possono ripartire, ha spazio per andare, ha evitato un possibile gol Lo vede? Occasione per accorciare le distanze, attenzione! Partita che si riapre nel finale, un solo gol da recuperare col tempo che scorre però inesorabile Devono crederci fino all'ultimo, il gol può arrivare da un momento all'altro, l'unico problema è che non c'è più tempo Così può bastare, prima partita è prima vittoria e ovviamente logica la soddisfazione Sono partiti col piede bello schiacciato sull'acceleratore, tre punti, mettere subito in chiaro le cose, è evidente che cerchino un ruolo da protagonista Grazie a tutti! 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 il calcio è la nostra passione a ogni latitudine sono curioso dunque di vedere cosa ci riserveranno oggi queste due squadre tiro murato ferma bene l'avversario, può ripartire pallone regalato agli avversari intervento molto rischioso del difensore che ha avuto coraggio palla rubata in una zona pericolosa c'è stata la deviazione l'arbitro assegna la touche la rimessa con le mani Razz prova a metterla sulla corsa del compagno occhio al tocco preciso per servire il compagno occhio al tiro 1 a 0 ecco il primo gol della gara ha dialogato bene con il compagno prima di andare al tiro come evidenziano le immagini ha poi calciato forte dalla media distanza il potere non ha avuto il tempo di intervenire ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro 1 a 0 ancora la circolazione di palla arbitro che viene già chiamato in campo preferisce toccare la corte e c'è il gol palla in rete arbitro che annulla la rete per posizione di fuorigioco fra le proteste dei giocatori credo che l'assistente avesse alzato la bandierina prima ancora che la palla terminasse in rete quindi non si può nemmeno parlare di gol annullato ma non è perso l'arbitro assegna il palo laterale l'allenatore della squadra di casa facendo al proprio difensore di salire di andare avanti anche lui credo che lo voglia sfruttare come torre su corner e palle alto grande recupero in area duello mult potrebbe trovare i pari brutto errore dell'attaccante sprecato la palla del pareggio occasioni del genere non capitano tutti i giorni bisogna essere più cinici davanti alla porta si ripartirà con un fallo laterale c'è l'errore palla recuperata occhio cerca l'area di rigore palla che torna in possesso efficace il possesso palla con una serie prolungata di scambi allontare il pallone peccato deve essere una buona opportunità Razz non è solo pallone riconquistano gli avversari senza problemi qui per la difesa interviene sul pallone non c'è pallo pallone che è uscito ci sarà rimessa dal fondo ferma tutto il difensore bravissimo qui prova con lancio lungo prosegue qui dell'avanzata all'allontanato della difesa era un cross interessante colpito il pallone dal difensore sono già avanti di un gol questo corner può essere l'occasione per raddoppiare il vantaggio ovviamente si è sfruttato a dovere occhio al pallone in mezzo buono l'anticipo del difensore cross in mezzo legge bene una situazione pericolosa c'è un buon anticipo apprezzabile questo pallone hanno metri a disposizione ottimo il lavoro difensivo su questo contropiede buono l'intervento del difensore che spazza via tira il respinto c'è stata una deviazione sarà rimessa con le mani occhio al cross grande intervento del difensore in area partono in contropiede difesa avversaria è piazzata male qui c'era spazio ma l'hanno gestita male palla recuperata in zona d'attacco attenzione cerca la rete ottimo intervento difensivo pallone regalato agli avversari bravissimo qui il difensore che recupera è iniziato il conto alla rovescia 60 secondi da giocare recupero minimo quello concesso dal direttore di gara prova portiere che blocca il tiro bravo qui e finisce qui il primo tempo 1-0 alla fine dei primi 45 di gioco le statistiche i numeri non sono esaltanti in questo primo tempo effettivamente è ecco il calcio di inizio del secondo tempo c'è il fallo e dunque punizione Vlad, Radu buona circolazione palla entrata decisa passaggio impreciso palla in palo laterale intervento efficace del difensore che intercetta il lancio e recupera palla si libera la grande e il pallone finisce in rete si è coordinato e ha calciato in porta di prima un gol bellissimo dormita colossale come possiamo vedere da queste immagini non si possono perdere certi palloni bravi gli avversari ad approfittarne match che riprende ha allungato portandosi sul 2 a 0 occhio al pallone filtrante occhio all'occasione per riaprire il match il portiere in presa sicura guadagna metri entra sul pallone e concede la rimessa laterale pallone troppo prevenibile questo occhio al contropiede capisce tutto il difensore ottimo intervento pallone perso interessante la verticalizzazione qui potrebbero certamente sfruttare meglio questa situazione allarga il gioco sugli esterni c'entra in pieno il difensore la spazza via buon tackle ha concesso la tush la rimessa con le mani regalano palla agli avversari regalano palla agli avversari possibilità di contropiede ottima la verticalizzazione portiere che sventa la conclusione senza nessuna difficoltà una sicurezza per tutta la difesa la sua eh sì pierre non può concedersi distrazioni sono guai grande recupero lettura perfetta e palla recuperata è in zona cross recupera la palla a far ripartire i suoi pallone che finisce in angolo la mette in mezzo la difesa la meglio e allontana il pallone ha sbagliato il controllo finendo per trascinarsi la palla fuori ottimo il pressing qui recupera un gran pallone nella metà campo avversaria niente da fare situazione abbastanza evidente di offside ottimo recupero della trequarte avversaria ottima la lettura da parte del difensore possono ripartire in contropiede c'è campo per andare c'era spazio ma l'hanno gestita male si accentra attenzione palla rispinta dal difensore posizione ideale strepitoso qui l'intervento del portiere che dice di no ha tolto la palla letteralmente dalla porta è un prodigio eh palla verso i 16 metri tutto fermo tutto fermo c'è fuori ciò siamo entrati nell'ultimo quarto d'ora è in buona posizione bravo qui nell'interrompere tutto pallone perso ferma tutto il difensore bravissimo qui c'è spazio per ripartire c'è spazio per ripartire pallone sul fondo si ripartirà con il portiere vla mancano 10 minuti alla fine della gara allontana il pallone peccato deve essere una buona opportunità attento qui il difensore che allottana azione interessante questa attenzione tentativo di pressing qui bravo qui il difensore ha sventato una potenziale azione pericolosa può ricevere una posizione interessante grande intervento del difensore in area si aprono spazi invitanti si continua eh c'è il vantaggio perdono palla banalmente c'era rimessa con le mani altro possesso gestito male l'intervento del portiere su un bel colpo di testa non un grande passaggio in effetti gran palla ha spazio per andare con questa palla con questa scivolata efficace così può bastare prima partita e prima vittoria e ovviamente logica la soddisfazione sono partiti col piede occhio al tocco prescita per servire il compagno occhio al tiro 1-0 eccolo il primo gol della gara ha dialogato bene con il compagno prima di andare al tiro come evidenziano le immagini palla spaziale si libera la grande e il pallone finisce in rete si è coordinato e ha calciato in porta di prima un gol bellissimo dormi occhio al tocco prescita per servire il compagno occhio al tiro occhio al tiro 1-0 ecco il primo gol della gara ha dialogato bene con il compagno prima di andare al tiro come evidenziano le immagini ha poi calciato forte dalla media distanza il portiere non ha avuto il tempo di intervenire occhio al tocco prescita per servire il compagno occhio al tocco prescita per servire il compagno 1-0 eccolo il primo gol della gara palla spazzata via azione che sfuma si libera la grande e il pallone finisce in rete si è coordinato e ha calciato in porta di prima un gol bellissimo un gol bellissimo Grazie a tutti.